Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus dal 2009, colei che è sempre accanto al conduttore nei suoi impegni televisivi più importanti, tra cui la conduzione del Festival di Sanremo, essendo la sua compagna di vita, condivide con lui anche i momenti di inevitabile tensione. Presto noi vedremo Ama di nuovo al timone dell'importante chermessa rimese, ma nessuno dimentica lo sfogo che Giovanna ebbe durante la puntata in cui la ballerina e Showgirl, ospite di Alberto Matano nella parentesi dedicata alla Cassarremo di Amadeus, ad un certo punto non è riuscita a trattenere le lacrime. Matano le ha chiesto. Ho visto che ti è scappata una lacrimuccia, cos'è che ti ha emozionata? E lei, senza giri di parole, seppur con la voce rotta dalle lacrime di commozione, ha detto «È che sono orgogliosa. Se lo merita, è proprio bravo». Lacrime di gioia, di ammirazione, di stima nei confronti del marito, quelle di Giovanna che ha solo speso dolcissime parole per lui. Anna Pettinelli, ospite in studio, ha messo in luce il forte legame che lega la Showgirl al marito, al punto da commuoversi per i suoi successi, come solo chi ama per davvero è in grado di fare.